Il livello di obesità nei bambini non dipende solo dalle abitudini e dalle preferenze in materia di cibo e bevande, dall'inattività fisica o dal comportamento sedentario, ma è collegato anche al livello di istruzione di benessere. I fattori socio-economici e ambientali rivestono una grande importanza. A dirlo il Centro Comune di Ricerca della Commissione Europea, che ha realizzato un'analisi sul fenomeno del sovrappeso e dell'obesità nelle fasce d'età più basse. Stando allo studio, la percentuale europea di bambini o adolescenti in sovrappeso oppure obesi è allarmante e l'Italia fa parte di quei paesi europei dove circa un terzo degli undicenni accusa il sovrappeso o l'obesità. Tra gli adulti invece lo stivale presenta un livello che è tra i più bassi d'Europa. Se si rapportano questi dati con il grado di istruzione, però, si registra come quanto più questo sale, tanto più la situazione migliora nell'Italia e negli altri paesi del sud Europa, mentre peggiora, allo stesso tempo, in quelli del nord Europa. Guardando la mappatura realizzata dal Centro Comune di Ricerca della Commissione Europea, la percentuale più alta di bambini di undici anni in sovrappeso oppure obesi raggiunge picchi superiori al 35% in Grecia e a Malta.